L'atto ufficiale, quello in cui le contrade non possono più cambiare il Fantino in vista della carriera del Palio, il 16 di agosto, si terrà il 16 mattinale 11 con la cosiddetta cerimonia della segnatura dei Fantini. In teoria, fino a quel momento, ogni Fantino può essere cambiato e quindi ci potrebbe essere posto, anche per quella che è la notizia del giorno, cioè l'imperatore del Palio, il Fantino plurivittorioso, 13 vittorie a un passo da record di Aceto, e cioè Gigi Bruschelli, detto Trecciolino, non correrà il Palio. Non ha trovato alcuna contrada che lo monti, soprattutto non ha trovato la fiducia delle contrade con i cavalli vincenti, proprio per affidargli questi cavalli che possono puntare alla vittoria. Perché? Perché i tre cavalli favoriti, e cioè Istriceddu nella selva, Morosita prima nel Drago e poi Oppio nella contrada del Leocorno, sono stati affidati dai capitani a Giovanni Leoni, Giovanni Azieni, detto Tittia nella selva, Giuseppe Zedde, detto Gingillo nel Leocorno, e il Drago che ha confermato il Fantino vittorioso a luglio, e cioè Alberto Ricceri, detto Salasso. Hanno scelto quelli che reputano i migliori, quindi nella gerarchia delle eccellenze dei Fantini di Piazza del Campo, Gigi Bruschelli, detto Trecciolino, 46 anni a dicembre, è clamorossamente disceso, tutto in un colpo. È la notizia del giorno che potrebbe, ripetiamo, cambiare la mattina del 16 agosto, ma molto probabilmente non sarà così. Qualcuno della famiglia Bruschelli ci sarà perché andrà al canape Enrico Bruschelli, il figlio di Gigi, che ha già corso a luglio nella giraffa e questa contrada lo ha confermato. La storia del Palio è una storia in cui si alternano luci ed ombre e ci sono anche passaggi del testimone. Si ha però la sensazione che il prossimo anno Gigi Bruschelli tornerà in piazza.